Buonasera, per caso conosci Marika? Sono io Marika, però devi sapere che questo non è economico, un millino. Oh ma perfetto, per me va benissimo, non è un problema, ce l'ho dietro. Ok, ok, basta che tu lo sappia, andiamo. Buonasera Marika, sono venuto ieri, ti ricordi di me? Ti ricordi vero che è uno con tre zeri? Guarda, fortunatamente sono ancora giovane e la memoria è ancora fresca. Comunque non preoccuparti, non ho di quei problemi, stai tranquillo. Va bene, va bene, sei tu che decidi la tua task? Andiamo, Marika, seriamente, tre notte di fila? Guarda che non faccio nessuno sconto per gli abitudinari, spero che tu lo sappi. Per favore, così mi offendi, ti ho detto non preoccuparti che per me i soldi non sono un problema e che mi hai incantato con quegli occhi e volevo rivederti. Ok, va bene. Grazie di tutto davvero Marika. Guarda, non fai intendermi, sono molto contenta che ti piaccia, ma tre notte di fila? Cioè, sono 3K, un sacco, ma da dove vieni? Vengo da Milano. Ma dai, a Milano ci abita mia sorella, il mondo è proprio piccolo. Oh, lo so, lo so, infatti è lei che mi ha affittato, termina da darti e gli sto dicendo appunto che ho fatto.